Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In primo piano la cronaca mafia Bari, la commissione parlamentare antimafia ha deliberato di richiedere gli atti riguardanti l'inchiesta denominata codice interno. I dettagli. Si apre ufficialmente in commissione antimafia parlamentare un procedimento sul caso Bari dopo gli arresti di 130 persone, tra cui l'ex consigliere regionale Giacomo Livieri e sua moglie, la consigliera comunale di Bari, Carmen Maria Lorusso, accusati di aver comprato voti durante le comunali del 2019 attraverso anche l'intermediazione di clan mafiosi. L'ufficio di presidenza della commissione parlamentare antimafia all'unanimità ha deliberato di richiedere gli atti riguardanti l'inchiesta codice interno di Bari, le parole di Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare antimafia. Lo ha fatto, aggiunto, con la consapevolezza che gli oltre 130 indagati, gli oltre 110 tradotti in carcere, l'amministrazione giudiziaria disposta per l'AMTAB e quello che emerge in queste ore riguardo il comune di Bari ha e richiede una necessità di un approfondimento. Un approfondimento dei rapporti tra mafia e politica, cosa che faremo senza tentennamenti, a concluso, nel pieno rispetto del lavoro degli inquirenti. Sul caso prosegue intanto lo scontro politico. A nessuno dovrà essere consentito di usare questo strumento per speculazioni elettoralistiche in una realtà dove le istituzioni e i suoi vertici, il presidente Emiliano e il sindaco De Caro, sono da anni in prima fila insieme all'antimafia sociale contro malaffare e mafie. Fanno sapere il capogruppo PD in antimafia, Walter Verini, e il segretario della commissione, Anthony Barbagallo. Il centro-destra è molto preoccupato per ciò che sta avvenendo a Bari, ha dichiarato invece il sottosegretario della salute Marcello Gemmato. La commissione antimafia ha richiesto gli atti processuali, immagino, per alzare ulteriormente il livello di attenzione. Ha proseguito evidenziando che il nome del candidato sindaco del centro-destra deve essere un nome all'altezza di governare questi processi, che sono molto preoccupanti nella misura in cui tutti quanti noi, chi vive a Bari, chi vive in Puglia, non vuole che il territorio venga controllato dalla malavita. Caso Sanitopoli-Lucana, arriva l'assoluzione in Corte di Appello per Marcello Pittella. Sentiamo. La Corte di Appello di Potenza ha ratificato l'assoluzione dell'ex presidente della regione basilicata, Marcello Pittella, coinvolto nel caso della Sanitopoli-Lucana. Pittella, difeso dall'avvocato Donatello Cimadomo, fu arrestato il 6 luglio 2018 dalla Guardia di Finanze e successivamente posto ai domiciliari. La situazione legale lo portò alle dimissioni dalla presidenza della regione all'inizio del 2019. In precedenza il Tribunale di Matera lo aveva assolto il 22 dicembre 2021. Sono felice della pronuncia della Corte d'Appello, ha commentato Marcello Pittella, nonostante sia stata e lo è ancora una vicenda molto dolorosa e anche rocambolesca, ho sempre avuto fiducia in una giustizia giusta che oggi trova per me conferma. Ristabilire la verità non ripaga gli anni trascorsi, i giudizi subiti, i percorsi deviati, ma rasserena l'animo. La giustizia fa sempre il suo corso, basta avere fiducia così in una post social Donato Pessolano, segretario regionale di Azione Basilicata. Si conferma così la serietà e l'onestà di Marcello, uomo dal grande profilo politico istituzionale. La conferma dell'assoluzione di Marcello Pittella, dice Carlo Treroto, la capogruppo consigliare di Prospettive Lucane, rappresenta una buona notizia per la credibilità delle istituzioni e per restituire fiducia nei cittadini rispetto alla politica. Si conferma definitivamente, commenta ancora Matteo Richetti, capogruppo di Azione per Renew Europe, alla Camera ciò che chi conosce Marcello Pittella sa da tempo una persona per bene, onesta, coraggiosa e libera, felice insieme a tutta azione per la fine di questa vicenda. Verrebbe da dire giustizia è fatta, dichiara il segretario radicale Lucani Maurizio Bolognetti, ma la verità è che non avrebbe dovuto esserci alcun processo per Marcello Pittella, e men che meno il suo sequestro, e cioè i domiciliari che gli furono combinati. La Corte d'Appello ha anche confermato l'assoluzione per il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, coinvolto nella stessa indagine. L'inchiesta della Guardia di Finanza, risalente alla 2018, ricordiamo, svelò concorsi e nomine manipolate, scuotendo la politica lucana. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata, confermando le condanne per diversi coinvolti, tra cui l'ex direttrice amministrativa dell'ASM, Maria Benedetto, 5 anni di reclusione, l'ex direttore generale dell'ASM, Pietro Quinto, 2 anni e 6 mesi, il dirigente dell'ASM, Giovanni Berardino Chiarelli, 2 anni e 6 mesi, e il dirigente amministrativo del CROB di Renero Invulture, Gianvito Amendola, 2 anni e 6 mesi di reclusione. Le condanne sono state confermate anche per la funzionaria dell'ASM, Anna Rita di Taranto, 2 anni di reclusione, il funzionario della CROB, Angela Capuano, 1 anno e 4 mesi di reclusione, e la dirigente dell'ASM, Maria Evangelista Taccardi, 1 anno di reclusione. Ancora alla cronaca, si è verificato un nuovo ennesimo incidente sul lavoro. Un uomo di 40 anni è morto durante un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Brindisi, all'interno di un'azienda che si occupa di logistica. A quanto si è appreso, l'uomo era impegnato in alcuni lavori all'interno dello stabilimento quando è caduto dal tetto di una struttura alta più di 10 metri. Inutili tentativi di rianimazione degli operatori del 118 sul posto intervenuta, ha intervenuto anche il personale dello Spesal, indaga intanto la polizia. Cambiamo ora argomento e torniamo ad occuparci dei giochi del Mediterraneo 2026, conferenza stampa a Taranto del commissario straordinario individuato dal governo Massimo Ferrarese. Si è espresso in particolare sulla questione legata allo stadio Iacovone e sulla recente sentenza della Corte Costituzionale sulle competenze Stato-Regione. Sentiamo. Difficile che si potrà giocare contestualmente i lavori, ma l'intenzione è quella di risolvere anche questo problema. Così il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, sulla questione dello stadio Iacovone. I lavori inizieranno a novembre, ha aggiunto, non c'è tempo da perdere perché abbiamo un anno e mezzo per completarli. Ne parlerò immediatamente con i progettisti di Sport e Salute, a cui abbiamo affidato la progettazione dello stadio Iacovone, e ne parlerò anche con la prefettura perché chiaramente sarà una questione anche di sicurezza se si possono disputare le partite mentre c'è un cantiere in piedi. Capisco quali sono i problemi, certo, sono problemi che sono nati cinque anni fa, oggi tocca a me risolverli. Sulla sentenza della Corte Costituzionale, che ha stabilito l'illegittimità del decreto con il quale il Governo nazionale aveva avvocato a sé la cabina di regia dell'organizzazione, Ferrarese ha sostenuto che il coinvolgimento della Regione Puglia per l'approvazione delle opere determinerà un allungamento dei tempi. Sono soddisfatto del fatto che Blinda di fatto è legittima il commissario. Ora, quei decreti li guarderanno insieme alla Regione, daranno l'ok con la Regione, però io li aspettavo già ieri, l'altro è ieri, perché non c'è più tempo. Spero che non si perda altro tempo perché chiaramente i giochi, soprattutto per i lavori più importanti, per gli impianti più importanti, in questo momento non c'è la possibilità di perdere nemmeno un'ora. Potenza è la città dei giovani per il 2024. La proclamazione è arrivata ieri pomeriggio durante una cerimonia che si è svolta a Napoli. Sentiamo. E' potenza la città dei giovani del 2024. La proclamazione è arrivata qui nel Palazzo del Consiglio di Napoli, un momento molto partecipato, dove sono state presenti tutte e cinque le città finaliste. Hanno presentato i propri dossier e i propri lavori. Poi la proclamazione è arrivata dal Ministro dello Sport e dei giovani Adobe. Momenti di grande emozione, non solo tra i componenti dell'amministrazione comunale, ma anche tra i tanti ragazzi che questa mattina sono partiti da Potenza, riempendo un pullman e sono arrivati qui, nel capoluogo di Regione Campano. Noi abbiamo raccolto le emozioni al momento della proclamazione. Sentiamo. Sì, una vittoria importante e inaspettata, anche perché per noi era già un successo essere arrivati tra le cinque città finaliste, considerata la qualità delle città che erano insieme a noi in finale. Adesso abbiamo l'onere di lavorare per la realizzazione ancora di più di quel dossier, magari con uno sguardo rivolto anche alle altre città. Non me l'aspettavo. Noi credevamo tantissimo nella qualità del nostro progetto, ma nelle competizioni i fattori possono essere tanti. Una grandissima emozione. Consentitemi di dedicare questa vittoria a mia madre e a mia figlia. Bellissimo, davvero bellissimo. Felice per i ragazzi che sono venuti, per il lavoro fatto, per aver dimostrato che è possibile anche da noi fare delle cose, che anche Potenza è un luogo delle opportunità, un luogo di passione, un luogo di tanti giovani che sono impegnati quotidianamente nel raccontare una città differente. Se sappiate che questo non è un appuntamento di circostanza, né di convenienza, ma è la convinzione che quello che diciamo lo faremo. E se sbaglieremo ce lo farete notare, ma ci assumeremo le nostre responsabilità. Ammiglionico, grande partecipazione per una notte al museo, appuntamento organizzato dal cluster Basilicata Creativa e dal Comune. Una preziosa occasione di confronto fra gli attori del settore culturale e creativo per sostenere la trasformazione digitale e la valorizzazione culturale nell'ottica di una rinascita sociale ed economica che parta dalle periferie italiane. Questo l'obiettivo di una notte al museo, appuntamento organizzato dal cluster Basilicata Creativa e dal Comune di Miglionico. Nella cornice del Castello del Malconsiglio si è dato il via ad un laboratorio per discutere di transmedialità, gamification, domotica, metaversi e ricerca scientifica, tutte materie da applicare alla fruizione e al ruolo sociale dei musei del futuro nell'era digitale. L'evento ha offerto spazio anche a performance artistiche ed installazioni multimediali interattive collegate a messaggi e istanze sociali. Parte da Miglionico un tour di una serie di eventi che faremo prevalentemente serali in differenti luoghi che hanno a che fare con il patrimonio culturale e in generale con la cultura in Basilicata per mostrare come le nuove tecnologie ma l'innovazione in generale possono aiutare musei, biblioteche, cineteatri, scuole addirittura e anche i borghi. Stiamo seguendo tantissimi comuni pubblico e amministrazione della Basilicata che hanno l'esigenza di valorizzare i loro siti culturali e i loro musei. Il cluster ha una missione precisa che è quella di portare l'innovazione a 360 gradi sul territorio. Presentiamo tre applicazioni proprio su Miglionico, il modello 3D per studiare anche le problematiche di carattere conservativo del castello, delle analisi multispettrali su alcune opere che abbiamo scelto che stanno nella cattedrale di Miglionico e poi faremo proprio una dimostrazione per spiegare un po' l'uso di queste tecnologie di diagnostica come il georadar d'alta frequenza, le tomografie soniche per capire, ad esempio, se ci sono delle problematiche, delle disomogeneità, delle fratture, insomma, delle strutture murarie. Quindi un'applicazione a tutto campo, multiscala di queste tecnologie con un approccio assolutamente interdisciplinare. Ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione. A tutti una buona giornata.